buona giornata amici bentrovati alla rassegna stappa di fano tv oggi è giovedì 8 febbraio 2024 non è un giovedì comunque è un giovedì particolare perché giovedì grasso il punto centrale del carnevale un giorno in modo particolare dedicato ai bambini e ovviamente nel carnevale di fano la festa è ancora più sentita più partecipata sarà una grande festa oggi in piazza 20 settembre ne parleremo poi leggendo i giornali vediamo subito leggendo sfogliando dal manacco del giorno chi si festeggia oggi e oggi vediamo la grafica eccolo qua il santo del giorno san girolamo emiliani visse nel xvi secolo capitano della repubblica di venezia streno difensore della roccaforte di castelnuovo di treviso costretto ad arrendersi era assalito da forze soverchianti fu imprigionato dai francesi una volta liberato girolamo lasciò la spada per la carità verso dio e verso i poveri fondò i chierici regolari per soccorrere gli orfani e altri istituti in diverse città italiane molti occorrevano a lui per così ricevere la sua benedizione a tratti dalla sua santità quindi un uomo di spada un soldato un militare e poi un umile e penitente della chiesa cattolica questo è san girolamo emiliani vediamo ora le previsioni del tempo ecco quello che ci dicono i giornali questa mattina situazione di tempo stabile e asciutto tra sole e nuvolosità a tratti irregolare i venti saranno moderati o pesi da sud ovest le temperature massime sono miti 10 pensate la minima e 15 la massima ancora non fa freddo insomma un inverno ancora questo piuttosto caldo dobbiamo dire le il mare è leggermente mosso e il sole il sole sorgerà alle 7 e 18 e tramonterà alle 17 e 24 ed ora passiamo alla lettura dei giornali passando attraverso il corriere adriatico e vediamo sulle corriere adriatico la risposta dell'assessore allevori pubblici barbara brunori al comitato del centro storico che aveva lamentato la carenza dei parcheggi aveva chiesto dei benefici per quanto riguarda la possibilità di disporre di spazio sufficiente almeno per i residenti di coloro che abitano nella città murata troppi scooter e auto in centro intitola il corriere aumentiamo gli stalli per la sosta ebbene l'assessora brunori ha evidenziato quali sono i progetti sperimentali allo studio dell'amministrazione comunale e vediamo che si cerca di ampliare il parcheggio nei pressi della rocca malatestiana vediamo che si cerca anche di trovare una soluzione per rendere più posti macchina al parcheggio che si trova nei pressi delle maestre pie venerini non molto lontano da via nolfi e poi ancora c'è una zona vicino alla zona degli orti vicino a via cristoforo colombo e poi ancora sempre nella stessa zona già un'area prevista inserita nel piano regolatore quindi allo studio ci sono diverse soluzioni certo bisogna ovviamente fare i conti con gli spazi che sono disponibili di più non si può fare non ci sono al momento delle concessioni per quanto riguarda la possibilità di parcheggiare nelle zone blu per esempio da parte dei residenti in maniera gratuita però insomma il colloquio si sta attuando si cerca anche di presentare un progetto per poi sottoporlo all'esame del comitato l'altra la pagina comunque di apertura del corriere è condivisa con la situazione ambientale delle antenne queste antenne che un po vengono contestate da ogni parte del territorio comunale quando sorgono e sono le antenne del 5g ebbene per evitare ulteriori polemiche l'assessora all'ambiente cora fattori ha convocato una riunione con il pubblico con i cittadini se ne discuterà domani alle ore 17 30 durante un incontro pubblico online un primo incontro con i cittadini per diffondere poi anche condividere il progetto elaborato dallo studio polab una società specializzata nel settore insomma è il caso è l'opportunità di fare tutti gli appunti tutte le osservazioni per il piano che verrà presentato ma non basta solo contestarlo occorre poi trovare una soluzione perché poi la copertura della rete deve essere univoca e uniforme in tutto il territorio quindi non si può fare o meno di elevare le antenne da qualche parte bisognerà pur metterle tiriamo la pagina e vediamo il secondo articolo di apertura sul corriere adriatico e appunto parla dell'argomento che vi ho accennato è il giorno del giovedì grasso il corriere intitola il giorno del rabachenne un titolo un po' provocatorio ma comunque giusto perché oggi verrà eletto nominato sindaco del carnevale di fano la maschera di pesaro il rabachenne e beh insomma tra pesaro e fano c'è stata sempre un po' di 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 così di di bellità di 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 tradizione insomma a forza di campanilismo eccetera e questo è un atto che si pone poi dobbiamo dirlo in realtà nel quadro delle manifestazioni di pesaro capitale nazionale della cultura a cui fano anche partecipa e questa volta c'è un atto di liberalità ma anche di provocazione da parte dell'ente carnevalesca che ha scelto proprio la maschera pesarese per così dare le direttive al carnevale di fano insomma che non è poco comunque una grande festa che inizierà oggi alle ore 16 in piazza 20 settembre dove ci saranno tante iniziative per fare divertire i bambini in modo particolare non mancherà comunque l'aspetto istituzionale perché alle 16 verrà fatta l'alza bandiera di fronte al palazzo comunale e poi tutti in piazza per la nomina del sindaco per quanto riguarda invece la festa abbiamo lo spettacolo abbiamo la danza del voulon un evento che viene così realizzato nell'ambito di un progetto speciale della regione Marche e che vede due danzatori del gruppo Danza Oggi e poi ancora la danza seguirà la recitazione alle 17 andranno in scena gli allievi attori del terzo anno dell'Accademia Internazionale del Teatro di Roma e poi ci saranno animazione, c'è Arfan Animation, musica, laboratori sul riciclo insomma i bambini potranno giocare e divertirsi sarà inoltre ricreata anche un'area sport dove i bambini potranno provare le varie attività potranno così essere immersi nell'attività del Fano Rugby dell'Ultimate Frisbee Fano Association e nello Young Long, una scuola di arti marziali insomma veramente i bambini sono protagonisti nella giornata di oggi vediamo un argomento più serio è oggetto di una interrogazione, di una proposta fatta da Luca Serfilippi, consigliere regionale della Lega ebbene Serfilippi fa così i preme e la giunta regionale affinché a Fano venga realizzato un centro Alzheimer stanziale in modo che i ricoverati, i degenti possono restare lì anche la notte i servizi forniti dal centro Margherita sono ovviamente importantissimi però è un solo un centro diurno e quindi deve essere implementato anche per quanto riguarda il numero degli utenti che possono così essere ospitati in questo centro un obiettivo che il consigliere regionale Serfilippi pone sia all'amministrazione comunale che a quella regionale nell'ottica di una cooperazione tra i due enti a vantaggio dalle persone affette dal morbo di Alzheimer si calcola che sono oltre mille le persone che hanno bisogno di questo tipo di assistenza assistenza che ora grava soprattutto sulle famiglie con un peso che spesso diventa insostenibile passiamo all'entroterra e vediamo una tragedia che si è verificata da Qualagna crolla un albero e lo uccide raccoglieva la legna nel bosco la vittima è Pietro Faggiani un ex postino di Ferminiano l'incidente si è verificato a C. Bartoccio ebbene Pietro Faggiani lo faceva spesso andava a raccogliere legna in questa località purtroppo ieri in un terreno dimaniale mentre stava tagliando alcuni rami una pianta pericolante gli è crollata addosso l'ha schiacciato e non gli ha lasciato scampo la salma ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria e poi se a Fano per il carnevale si lanciano i dolciumi e ad Acqualagna per forza di cose si lanciano tartufi qual è il paragone e chi la vince insomma il tartufo è veramente un regalo molto molto apprezzato dalla folla che partecipa al carnevale ad Acqualagna il rito si ripeterà domenica alla Fiera del Nero Pregiato il carnevale con il lancio dei tartufi è un fenomeno più unico che raro ed ha appuntamento ad Acqualagna tante tante persone che con le mani protese cercheranno di fare un bottino molto consistente a Mondolfo a Mondolfo c'è stata la visita del Vescovo Manenti Vescovo di Serigaglia che in questi giorni compie un giro per una visita pastorale alla parrocchia di Santa Giustina ebbene ha visitato tanti sportivi giocatori in erba Monsignor Manenti ha visitato il centro sportivo Fucina dei talenti di calcio a cinque un incoraggiamento importante una emozione trascendentale per quanto riguarda questi ragazzi che con il Vescovo hanno provato insomma una certa carica in più e poi sempre a Mondavio vediamo che il paese in centro conserva la sua bandiera arancione è una bandiera che viene donata dal Touring Club italiano per il triennio 2024-2026 ed è un vessillo che viene assegnato alle località che non solo godono di un patrimonio storico culturale e ambientale di pregio ma sanno offrire al turista anche un'accoglienza di qualità quindi non basta solo avere delle belle cose da vedere ma occorre anche poi accogliere il turista nel migliore dei modi la pagina di Senigallia purtroppo evidenzia un lutto un lutto un incidente che si è verificato nella ferrovia un incidente volontario purtroppo travolto da un regionale in corsa sciocca al Cernin muore un medico ucciso dal treno un 68enne era in pensione i testimoni lo hanno visto lanciarsi sui binari quindi è stata una tragedia volontaria un gesto volontario proprio come quello avvenuto lo scorso 12 gennaio poco prima in stazione dove a morire era stata una 34enne e ieri il fatto nuovo è accaduto intorno a mezzogiorno è stato lanciato l'allarme un testimone ha riferito di aver visto una donna lanciarsi sotto il treno al Cernin e poi in realtà si è capito che era un uomo era appunto questo medico originario del pesarese residente a Senigallia vediamo la pagina di Pesaro dedicata agli cantieri che si stanno svolgendo nelle scuole vediamo subito il titolo Manzoni rivoluzionata senza spostare gli allunni e la sicurezza sarà al top non verranno dunque spostati gli studenti durante i lavori che interesseranno la scuola media Manzoni lo hanno ribadito nei giorni scorsi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l'assessore del FAL Riccardo Pozzi ma non sono solo questi i lavori che verranno fatti nelle scuole pesaresi ce ne sono tanti altri che vengono evidenziati da questa tabella per esempio 6 milioni e mezzo verranno utilizzati per demolire e ricostruire la Dante a Liglieri a Soria 3 milioni e 7 le cifre sono piuttosto consistenti 3 milioni e 7 per il polo d'infanzia di Via Rigoni sempre a Soria 5 milioni e mezzo per l'efficientamento sismico dell'Istituto Manzoni a Villa San Martino la scuola di cui abbiamo detto per cui gli studenti non verranno spostati 3 milioni e 200 mila euro per la palestra di Via La Marmora a Pantano 380 mila euro per l'efficientamento della scuola di Borgo Santa Maria e ancora ancora 600 mila euro per la scuola Fermi di Monte Granaro 3 milioni e mezzo per la scuola Anna Franchi di Borgo Santa Maria e 582 mila euro per la messa della scuola Pirandello vedete come sono molti i milioni che verranno utilizzati per dare alle scuole più calore più possibilità più efficientamento energetico ci mettiamo all'ascolto delle necessità dei bimbi il comune presenta il progetto che coinvolge il mondo della scuola lo vediamo qui nella seconda pagina dedicata a questo argomento giriamo ora ancora sfogliamo ancora il Corriere per capire un po' quello che è accaduto ieri per quanto riguarda la rottura dell'acquedotto della rete idrica pesarese acquedotto un guasto veramente insolito mai successo nel meno 40 anni pensate che a rompersi è stata una valvola da 60 quintali la vediamo qui questa fotografia è una valvola veramente macroscopica enorme e come si sia fatta rompersi non si capisce non si sa comunque è stato un danno considerevole pensate che l'intervento degli operatori per riparare il guasto è durato 7 ore e ci è voluto del bello del buono per riuscire a riparare questa valvola del peso appunto di 60 quintali sono intervenuti ben 12 addetti di marche multiservizi con l'ausilio di 8 mezzi un 5 camion 2 pompe ed una autogru per la riparazione di questo per effettuare questo grande intervento straordinario e qui abbiamo tutti i particolari di quello che è stato fatto comunque il problema è stato risolto doppia demolizione degli hotel parte l'inter e strappa il primo sì si tratta dell'ex international legato all'operazione bussola e del riva azzurra acquisito da Filippetti dunque abbiamo due strutture alberghieri di Pesaro eccole qua sono delle belle strutture che verranno rimodernate rimodificate sia per quanto riguarda la sagoma esterna sia per quanto riguarda poi tutta la struttura perché una di queste viene demolita completamente e poi ricostruita ancora la pagina di Urbino il carnevale a Urbino si farà in tre sabato il clou tra maschere e storia l'evento curato da Contrade e liceo e la Urana oggi il via con la festa dei bimbi martedì quella dei borghi ormai da qualche anno il sabato centrale del carnevale Urbinate si festeggia in piazza in piazza con le Contrade ed il liceo Laurana ogni anno questa istituzione partecipa all'evento con uno studio storico c'è quindi storia ma c'è anche divertimento ci saranno mascherate una giuria con premi insomma anche la città ducale e pensate che anche durante il rinascimento il carnevale veniva celebrato con belle iniziative culturali avevamo commedie avevamo concerti musici e avevamo ovviamente lazi divertimenti e cene piuttosto così piuttosto grasse e quindi anche questo era un periodo di particolare trasgressione poi arrivava la quaresima e portava via tutto e allora abbiamo visto un po' il sunto del corriere adriatico ora passiamo al resto del Carlino il resto del Carlino coinvolge un tema della sanità risarciti per un errore medico 22 anni dopo la morte del figlio ebbene è successo un caso che si è verificato tempo fa purtroppo con esito letale è morto un giovane di 22 anni un giovane scusate dopo 22 anni di lacrime e rabbia una famiglia fanese ha visto almeno riconosciuto l'errore medico e la negligenza che hanno portato alla morte un ragazzo appunto di 22 anni che aveva ancora tutta la vita davanti è stato un errore medico il ragazzo aveva bisogno di un apparecchio per regolare le pulsazioni del cuore questo apparecchio funzionava a batteria purtroppo le batterie non sono state sostituite era un piccolo defibrillatore che era stato sistemato nel ventricolo sinistro e purtroppo il giovane è deceduto ebbene la vicenda è finita davanti al tribunale e alla fine il clou del tribunale di Milano dove si sta svolgendo appunto il processo civile contro l'istituto clinico Humanitas nei confronti di 5 medici coinvolti ebbene sta andando a sentenza si è trovato comunque un accordo economico con la famiglia comunque ci sono voluti tanti tanti anni per raggiungere questo obiettivo e comunque è un errore tragico che ha causato la morte di un giovane veramente che aveva tutta la vita davanti a sé e il resto del carlino ripercorre un po' tutte le vicende così come le ha narrate il papà di questo ragazzo morto sotto il treno il medico di San Lorenzo è il dottor Brenno Angelucci che per oltre 30 anni medico di base di San Lorenzo il corpo dilaniato da un treno lungo la ferrovia adriatica a sud di Senigallia si tratta appunto di quell'episodio di cui abbiamo già parlato alla faccia della collina del silenzio feste in ville sembra riccione la collina del silenzio è la collina di Montegiove dove così dovrebbe essere che dovrebbe essere un'oasi di pace di tranquillità un'oasi di preservazione ambientale in realtà sembra che qui le feste non manchino oggi un gruppo di residenti di Montegiove prelato incontrerà il sindaco Massimo Seri per chiedere controlli secondo i cittadini vengono organizzate feste con musica ad alto volume fino a notte fonda ebbene anche qui è carnevale e qualcuno insomma non sopporta quello che sta accadendo dal luogo del silenzio della meditazione a discoteca a cielo aperto vedremo ora che cosa deciderà l'amministrazione comunale di spalla abbiamo la iniziativa del consigliere regionale Luca Serfilippi e poi a fondo pagina invece l'iniziativa dell'assessora all'ambiente Cora Fattori per quanto riguarda il piano delle antenne con l'incontro previsto domani alle ore 17 la musica arabita invade Sanremo Sanremo è una grande ribalta pubblicitaria promozionale per tante iniziative ebbene ed è presente a Sanremo anche il carnevale di Fano con la musica arabita che è l'elemento più significativo che esprime tutta la vivacità tutti i colori tutta l'allegria della nostra manifestazione show davanti all'ariston intanto oggi festa in piazza per il giovedì grasso e domani arriva Beatrice Venezzi che è la madrina del carnevale di Fano a lei è stato dedicato un carro che sfila appunto che è sfilato e sfilerà anche domenica prossima ma sarà anche la protagonista direttrice di un concerto organizzato al teatro della fortuna vediamo ancora la pagina di Urbino anche qui si parla di carnevale a Urbino esplode il carnevale tre giorni di allegria con maschere e sorprese coinvolte un po' tutte le borgate della città ducale sono coinvolte anche le scuole ma soprattutto c'è la fantasia di ogni singolo cittadino che potrà travestirsi mascherarsi insomma così vivere una giornata allegra dopo tante tante tristezze che ci sono tutti i giorni a pecchio anche a pecchio oltre a Mondavio bandiera arancione premiate qualità e bellezza il sindaco Nicolucci presente alla consegna dell'importante riconoscimento avvenuto alla borsa del turismo di Milano alla BIT solo quattro i comuni sugli allori la giudicazione del bando nazionale rivolto ai piccoli comuni a vocazione turistica e poi vediamo a centropagina la notizia dell'incidente mortale purtroppo che si è verificato nei pressi di Acqualagna il pensionato di 74 anni travolto da un albero che gli è caduto addosso e appunto è deceduto saltiamo la pagina di Ancona invece diamo un'occhiata a quella di Pesaro l'apertura è dedicata al basket si volta pagina Arceci guarda avanti consorziati più coinvolti si comincia a disegnare il futuro del sodalizio di via Bertozzini ma prima c'è il presente se serve un altro acquisto lo faremo hanno detto appunto Ario Costa e poi tutti gli altri rappresentanti di questo bellissimo sport che interessa la città di Pesaro qua abbiamo ancora Ario Costa si chiude un'era a fine campionato Lascio ha detto qui serve il ricambio ma la VL deve salvarsi vediamo anche un'ultima notizia prima di chiudere nuovi posti a pagamento in via della liberazione 20 parcheggi diventano blu la sosta gratuita perde altri pezzi a Pesaro a giorni arriverà la nuova segnaletica non è una notizia buona per coloro che cercano un posto macchina libero ma così è per quanto riguarda la sosta a pagamento e questo per il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani grazie per l'ascolto a risentirci